Siamo a Roma per il 75esimo congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia, della SIC. Uno dei temi che sono stati trattati qui in conferenza stampa è quello della medicina difensiva, un tema che preoccupa molto i cardiologi. Non ne parliamo col professor Matteo Di Biase, presidente della SIC e ordinario di cardiologia all'Università di Foggia. Professore, ci tratteggi la medicina difensiva in cardiologia? In cosa consiste esattamente? Si tratta di un atteggiamento dei medici, che non è solo la cardiologia, ma che è diffusto in tutte le altre branche, per cui si fanno delle azioni, per esempio un'aumentata richiesta di esami di laboratorio o comportamenti particolari che servono per difendersi dall'attacco di richieste di risarcimento anche da parte dei pazienti. Quindi è una medicina di difesa per cui invece di chiedere un esame se ne richiedono due o se ne richiedono tre nel tempo e soprattutto in molti casi si evitano di fare interventi ad alto rischio che hanno pur probabilità di avere delle richieste risarcitorie. Quindi la medicina difensiva è tutto ciò che è un incremento di attività in richiesta di esami e quella la negazione di alcuni esami particolarmente complessi che potrebbero essere a rischio di richiesta risarcitoria. Quindi, professore, mi pare di capire che sia un problema non solo economico perché gli esami in più costano, ma anche di tipo clinico. Anche il paziente alle volte deve rinunciare non sapendolo a delle possibilità perché sarebbero troppo rischiose. Sì, ci sono due problematiche. La prima è una problematica di costi. I costi possono essere visti in diverse condizioni. Il primo costo è il costo dell'esame stesso. La commissione di inchiesta fatta dal Parlamento ha dimostrato che la medicina difensiva costa lo 0,75 di un punto di PIL, cioè praticamente 10 miliardi di euro, cioè una cifra molto molto importante. E che nell'Ordine dei Medici di Roma ha fatto anche esso una ricerca in cui si è visto che c'è un aumento che va dal 10 al 15% di tutte le richieste. Quindi un costo economico diretto importante che, affrontato correttamente, potrebbe portare a una riduzione della spesa sanitaria. Dall'altra ci sono i costi indiretti, cioè che l'aumento delle polizze, le disdette delle polizze, sia per i medici, ma soprattutto per le aziende sanitarie. Ormai ci sono pochissime assicurazioni che vogliono assicurare le aziende sanitarie, tant'è vero che in moltissime regioni questo ricorrono praticamente all'autoassicurazione, cioè accantonano dei fondi per poter pagare le eventuali richieste risarcitorie. E questo, in un periodo in cui le aziende sanitarie hanno dei bilanci al limite, potrebbe essere un boomerang negativo che potrebbe portare a un aggravamento degli stessi. Quindi un problema proprio di costi veri e anche di costi indiretti. Professor, ce l'ha spiegato molto bene. Cosa fare allora? Cosa fare in un'epoca in cui noi vediamo la televisione gli spot che stimolano le persone ad andare dall'avvocato, diciamo così, lamentando possibili ingiustizie sanitarie? Sì, questo è una delle cause, ci sono tantissime cause della medicina difensiva. Uno è il cambiamento di rapporto tra medico e paziente, che una volta è di tipo fiduciario, ora di livello paritario. L'impossibilità da parte dei pazienti di accettare che non ci possano essere condizioni differenti, che non siano quelli della cura solamente. Ci vuole per forza, si richieda assolutamente la guarigione e non la cura della malattia. E quindi tutto questo porta a tutta una serie di richieste che sono particolarmente applicabili in quanto la medicina è la più inesatta delle materie esatte, cioè scientifiche. E quindi la possibilità di vedere un problema diversamente da come è stato affrontato è comune, anche perché la medicina è un'arte, quindi un medico la vede in maniera differente e questo crea praticamente tutta questa serie di richieste. È evidente che non c'è una soluzione unica al problema. Noi abbiamo pensato durante un simposio che si è svolto qui su questo argomento che una o due problematiche possono essere quelle di trasferire il tutto al di fuori in una condizione extra giudiziale in modo da poter fare una contrattazione diretta tra le parti e magari i medici e le aziende sanitarie e dall'altra cercare di ridurre in qualche modo al minimo queste richieste e di vagliarle prima di passarle e poi diciamo di sottoporle al giudizio della magistratura. Quindi un giudizio extra giudiziale, cioè degli arbitri, una cosa civilistica è così? Sì, trasformare tutto ciò che oggi potrebbe essere molto complicato per i medici in qualche cosa di extra da trattare, ma al di fuori dai tribunali o dai condensiosi particolari. Questa potrebbe essere una delle soluzioni, ma chiaramente non spetta ai medici trovarli. I medici possono solo sollevare il problema come una società scientifica, come la nostra che sente il bisogno di comunicare con le istituzioni, sta comunicando in questo momento un problema e magari anche con il nostro contributo, ma non solo, dovrebbe essere trovata una strada per poterci portare qual di fuori da questa condizione e ridurre questa spesa sanitaria.